Come avevo detto, dovevo ricominciare a correre. Ok, l'allenamento è quasi terminato, parliamo di Fitbit, visto che è l'ultimo argomento di cui abbiamo parlato. È da venerdì che l'ho caricato, oggi è martedì, ce l'ho ancora a polso, magari non si vede. Comunque, prima carica ottima, l'altro giorno è stato pieno, il sábato, il giorno è di martedì, quindi l'autonomia per ora ok. Anche il software, per ora, mi debito veramente tanto, forse è l'elemento veramente determinante di questo tipo di prodotti come le smartband, soprattutto quando sono magari un po' economiche. E ora invece vi dico cosa andremo a vedere nei prossimi giorni, qualche video riguardante GoPro, ovviamente Fitbit, la recensione, probabilmente settimana prossima, e arrivano di nuovo i prodotti Motorola, vi do un inizio. Tutto, ciao! Quando si decide di iniziare a fare qualcosa, la parte più difficile è sicuramente decidere di iniziare a farla. E la corsa non fa eccezione, il problema è con la corsa che poi bisogna mantenerla. Ah, ah! Ciao! Grazie a tutti.